SGF, soluzioni globali e forniture. Dal 2000, vendita e assistenza macchine per ufficio, PC, fotocopiatrici e digitali bianco e nero e colore, fax multifunzionale, stampanti laser, calcolatrici e plotter, progettazione e vendita di arredi per uffici e privati, fornitura toner, cartucce, inkjet e nastri, aggiornamenti siti internet. Garantiamo un servizio assistenza tecnica tempestivo ed efficace con personale specializzato. SGF è a Sassari, in via Grazia Deleda 22. www.sgfsrl.it